C***o marrone! Ma che c***o è, porco c***o! Questa piastra Teac ha sviluppato un problema. Mi si è inceppata una cassetta dentro, ho provato a riparrarla, se ne è inceppata un'altra, ho provato a riparrarla ancora. Si è inceppata una terza cassetta, per fortuna sto usando tutti i nastri sacrificabili, si è rotto un supporto di metallo, si è mangiato un filo della testina, perché si è strappata la parte meccanica, quindi adesso io vi spiegherò, anzi vi mostrerò come si ripara efficacemente una piastra di registrazione Teac. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!